un saluto a tutti voi che seguite questo canale siamo arrivati al nostro appuntamento mensile con le uscite del mese prossimo le uscite di dicembre le nuove serie tv o anche dei ritorni questo video come tutti gli altri è in collaborazione è un video che faccio anche per i miei amici di non solo.tv loro si occupano di tutto il mondo dello spettacolo quindi cinema televisione serie tv e tanto altro andateli a cercare sui loro profili social youtube il sito instagram insomma sono degli amici del canale spacciatore seriale adesso non perdiamoci in chiacchiere e spariamoci questa carrellata di titoli in arrivo a dicembre 2019 the loudest voice prima stagione in onda in prima serata su sky atlantic di nazionalità americana genere drammatico una serie tv con russell crowe e sienna miller miniserie sulla vita di roger hell il fondatore di fox news incentrata sulla decada in cui hell diventò il leader di fatto del partito repubblicano e sulle conseguenti accuse di molestie sessuali che hanno distrutto la sua carriera v wars prima stagione in catalogo sulla piattaforma streaming netflix una serie americana di genere horror fantascienza la storia di uno scienziato e del suo migliore amico mentre affrontano la crisi in evoluzione di un focolaio mortale che spezza la società in fazioni opposte potenzialmente degenerando in una guerra futura tra umani e vampiri vikings sesta stagione parte finale distribuita da team vision una serie canadese irlandese di genere drammatico azione storico dramma storico sulle tribù vikinghe che ruota intorno alla figura del leggendario guerriero ragnar lofbrok seguiamo la sua scesa da semplice fattore e pescatore fino al trono di svezia e danimarca la fantastica storia della signora maeser terza stagione distribuita da amazon prime video una serie americana di genere commedia drammatico commedia su una casalinga degli anni 50 che decide di abbandonare il ruolo che la società ha previsto per lei e diventare una comica crew be told prima stagione distribuita dalla piattaforma streaming apple tv una serie americana di genere poliziesco drammatico thriller una famiglia cerca di risolvere il mistero che circonda la morte del loro padre rami prima stagione distribuita dalla piattaforma streaming stars play una serie americana di genere commedia rami ventenne americano egiziano di prima generazione sta facendo un viaggio spirituale nel suo quartiere nel new jersey politicamente diviso rami esplora le sfide comportate dal dovere essere diviso tra una comunità musulmana che ritiene che la vita sia un test morale e la generazione dei millenials che vive come se non esistessero conseguenze a christmas carol prima stagione prodotta e trasmessa da bbc one regno unito fx usa drama misteri visionario una serie con gay peers protagonista e tom herdy produttore esecutivo ebnitz scrogg un vecchio amaro disprezza le vacanze di natale nel corso della notte della vigilia di natale viene visitato da tre fantasmi per mostrargli il suo passato presente e futuro the witcher prima stagione distribuita dalla piattaforma streaming netflix una serie polacca statunitense di genere fantastico azione drammatico adattamento della saga fantasy firmata da andrei sapkowski incentrata sulla figura di uno degli ultimi strighi umani geneticamente modificati per eliminare mostri e creature che minacciano la razza umana lost in space seconda stagione in catalogo sulla piattaforma streaming netflix una serie americana di genere fantascienza drammatico robot della serie anni 60 la storia racconta le avventure della famiglia robinson dopo essere precipitati su un pianeta alieno i robinson devono cercare il modo di sopravvivere e scappare dal pianeta ma sono circondati da pericoli nascosti new seconda stagione in catalogo sulla piattaforma streaming netflix una serie americana di genere drammatico thriller new e l'adattamento dell'omonimo romanzo scritto da caroline capnes affronta l'attuale e delicato tema dello stalking raccontando di quando l'amore diventa una vera e propria ossessione eccoci arrivati alla fine di questa carrellata di questi titoli in arrivo a dicembre 2019 io nel darvi appuntamento ad un prossimo video innanzitutto saluto gli amici di non solo punto tv e vi ricordo di andarli a cercare nei loro social poi vi chiedo di iscrivervi al canale spacciatore seriare e di cercarmi anche su facebook e su instagram sempre come spacciatore seriale io vi abbraccio tutti e vi do appuntamento ad un prossimo video ciao